Eccoci, eccoci Anche quest'anno è una giornata importante per l'Unitazzi e per tutti coloro che si sono recati a Loreto Si, si è concluso il nostro annuale pellegrinaggio a Loreto che dura tre giorni e quest'anno è stato particolarmente bello, vuoi perché c'è stato l'anno della misericordia ma si è creato anche un clima molto favorevole tant'è che quando siamo tornati alcune signore che vengono con noi da tanti anni mi hanno detto devi andare a dare la notizia e fanno tv perché è giusto dare anche le buone notizie e allora siccome noi siamo un'associazione ecclesiale e il Vangelo è buona notizia sono qui a dare questa bella notizia che eravamo in tanti che il Vescovo è stato con noi tutto il giorno e ha fatto una catechesi al personale molto seguita e molto sentita che c'erano tanti giovani e tanti bambini che hanno reso il pellegrinaggio speciale che una signora in Santa Casa mi ha detto finché posso vengo con le mie gambe quando non posso più sapete dove sto, venitemi a prendere ecco queste sono delle buone notizie che ci fanno piacere ci dicono che quello che facciamo è buono, ci dicono che l'associazione continuerà perché ha tanti giovani e anche tanti bambini e che c'è un grosso impegno per far sì che il mondo di domani sia migliore di quello presente un impegno anche verso chi soffre, verso chi non sta bene, verso chi comunque vive una condizione non facile e non agiata certo è un impegno verso i disabili che vengono in numero sempre crescente quest'anno addirittura il numero dei disabili è cresciuto ancora e tutti molto felici e tutti ci hanno lasciato con l'impegno di partecipare alle nostre iniziative future e con l'impegno da parte nostra di fare qualcosa per loro che sia oltre il pellegrinaggio che sia oltre il servizio ma che diventi vera amicizia grazie